Presente Manca il numero legale, quindi la svolta è sciolta, rimanga verbale questo dato perché credo che è un fatto importante, gli assenti si assumono una bella responsabilità istituzionale e politica e non solo istituzionale e politica. Grazie. Beh, è gravissimo quello che è accaduto, veramente dai responsabili sul piano morale, istituzionale, politico, finanziario, giuridico, da ogni punto di vista, tra l'altro avevo anche incontrato i responsabili del Partito Democratico di Forza Italia facendo capire loro che qui si lavora nell'interesse dei territori e delle istituzioni, ma questa è la cifra dell'oceano politico che divide tra chi sta cercando di governare nell'interesse esclusivo dei cittadini e chi pensa solamente agli interessi di bottega, tanto è vero che hanno buttato a mare 16 milioni di opere, di lavori per scuole, strade, di tutti i comuni della città metropolitana, è veramente un atto irresponsabile. Noi andiamo avanti per la nostra strada nella consapevolezza che bisogna ancora fare un grande lavoro nei comuni della città metropolitana per cambiare completamente la politica dei nostri territori, altrimenti questi continueranno a fare i loro interessi e i cittadini ne soffriranno. Saremo noi che cercheremo adesso di porre rimedio nel modo che siamo capaci di fare, perché noi i cittadini e i territori non li lasciamo soli, a differenza loro. Noi ci mettiamo al lavoro cercando di recuperare questi soldi, però ci rendiamo conto di che stiamo parlando, questa è la gente che poi ci ha lasciato il dissesso finanziario al comune di Napoli, che quando governava la provincia di Napoli ci ha lasciato bunti dappertutto, questa è la politica che abbiamo purtroppo ereditato e che stiamo cercando di cambiare. Questi invece pensano qua di fare i giochetti della vecchia politica, io a questo punto ogni minuto racconteremo ai cittadini quello che stanno facendo, cioè io passeremo nei prossimi giorni a girare i territori, perché io non penso che il sindaco del comune che ha perso i soldi, che magari fa parte del PD o di Forza Italia sarà contento, perché c'è un sindaco metropolitano che non appartiene al loro partito, che fa gli interessi del suo territorio e qua viene il loro partito che fa gli interessi praticamente di congrega e di bottiglia. Ma questa è una vergogna, io non ho altre parole che è una vergogna, io sto qua, costruisco ponti di pace, dicevano certe volte i beati costruttori di pace, se c'è un segnale noi lo raccogliamo, ma io ho più segnali di questo e non vedo che altro posso fare. Sono andato là dentro e ho detto vediamoci, vediamoci lunedì, discutiamo insieme, lavoriamo insieme, ragioniamo insieme, non c'è maggioranza, c'è un luogo che può essere la conferenza di capigruppo in cui si decide insieme, tutti seduti allo stesso tavolo, le deleghe non sono strumenti di governo ma sono strumenti operativi, io veramente non so più che fare. Cioè se loro vogliono continuare su questa strada, il dialogo, come ho detto poco anzi, l'hanno rotto loro, non l'abbiamo rotto noi. Io oggi, come avete potuto vedere, sono stato prima di entrare in riunione da loro, ho fatto un appello l'altra volta qua, lo sto dicendo adesso, l'ho fatto là, sto dicendo parole chiare e responsabili, dall'altra parte mi pare evidente, c'è la chiara volontà politica di volersi prendere secondo loro una rivincita contro il sindaco. Non hanno capito che stanno facendo un grave danno ai territori, un gravissimo danno economico, un gravissimo danno finanziario, di cui se ne assumono la responsabilità politica, istituzionale, morale, giuridica, finanziaria e contabile. Se ne assumono loro la responsabilità, noi andiamo avanti per la nostra strada. Tanto la rivoluzione non si arreste, mica proprio per due capi bastone si firma la rivoluzione, anzi siamo ancora più motivati.